Fabrizio Marras, Presidente dell'Associazione Riti di Giustizia. Noi oggi abbiamo come associazione, insieme al Comune di Formia e insieme all'Osservatorio regionale per la legalità e la sicurezza del Lazio, abbiamo organizzato questo convegno. Siamo partiti dalla presentazione del rapporto stilato dall'Osservatorio per poi calare su qual è la realtà locale e affrontare il tema di come negli anni con un'accelerazione, e specie in quest'ultimo periodo, sono cambiate le modalità di intervento nel territorio da parte delle mafie, che non sono quindi più quelle clamorose, violente degli attentati, ma una sempre più profonda e meticolosa compenetrazione nell'economia del territorio. Quindi l'obiettivo di fondo era proprio di raccontare questi cambiamenti e di ascoltare le domande, i dubbi, le proposte che vedevano dai cittadini, che sono arrivate, ne sono arrivate veramente tante, è stato uno degli aspetti più interessanti e belli di questo incontro. Grazie.